ragazzi buongiorno ultimo giorno stiamo in compagnia di Francesco animatore più grande di Rodi allora siamo con Perla la polpettina che ieri ha fatto una sfilata allora Perla ti è piaciuto ieri Maurizio dimmi tre cose che ti piacciono di questo villaggio villaggio animazione il cibo il cibo si mangia sempre in continuazione personale del villaggio fantastico è una famiglia ragazzi tutti uniti gentili e soprattutto Corviale il mare è spettacolare il mare è in basso il mare è in basso proprio adatto per le famiglie questo è un villaggio femminile appunto c'è il Rodi Cagatico l'avete creata la Siva Padre ce l'abbiamo solo a noi Siva Padre ragazzi buongiorno siamo con il nostro milanese quello che fa più ciao sono Claudio fa più confusione di tutti ma come devo fare quando dicono i milanesi sono tranquilli vieni a vederlo venite a trovarsi venite a trovarsi non ve ne pentirete grande serata domani sera e stasera giovedì festa e piscina venerdì lo spettacolo di bambini e sabato il musico questi sono poi i nostri appuntamenti serati ciao ragazzi ciao belli ciao buon divertimento il buon mare io sarei con lui tutta la settimana te lo giuro come si mi fa rire no 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 già c'ho mia moglie per carità ciao bello è un gabaretti starato arrivederci arrivederci